Luca, J Master Pronto! Ciao Luca, bentornato! Ciao! Ci senti? Ci senti? Sì, ho sentito Oh, bene 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 Che tempo c'è in Sicilia? Ma guarda, che sonne, però è un po' Un po' soloso Ah, beh beh beh, ci aspettavamo Ci aspettavamo di vederti in costume, sinceramente No, guarda, sono a casa che sto, diciamo, in studio Nella cameretta del mio figlio, ho il piccolo costume Ah, il piccolo? Sto studiando un po' Ah, beh beh, il piccolo Mattia, giusto? Il piccolo Mattia che salutiamo Salutiamo tantissimo Oramai che lui è un amico di Ok Radio Che si è presentato, grandissimo Mattia Stai preparando Ma dimmi, dimmi, cosa stai preparando? Innanzitutto diciamo Che tu fai un gradito ritorno Perché eri già venuto Con noi A presentarci Let me try, giusto? Sì, allora C'è la musica troppo forte Guarda, ti sento pochissimo Mi senti adesso? Sì, 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 ti sento benissimo Adesso ti sento forte e chiaro Ah, bene bene Sono qui in studio Che sto appunto preparando Il prossimo singolo Eccola qua Sempre insieme a Topics Però abbiamo cambiato un po' le cantanti Diciamo Ah, bene 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 Beh, è giusto cambiare anche Sì, sì, sì Diamo spazio anche Ad altri ragazzi Giusto Bravissimo Luca Bravissimo Tra l'altro questa Questa let me try Che sta andando forte Ho visto, eh Ho visto le classifiche Vedo sul tuo profilo Facebook Che posti le classifiche Ragazzo mio Complimenti Ragazzi, non ci possiamo lamentare Dai È andata bene Sta andando ancora E sicuramente E sicuramente andrà meglio Io vi voglio ricordare Subito agli amici Il tuo profilo Facebook Che è un Luca Scritto con la K Vero? Con la K Sì J Spazio J Spazio Master Giusto? Oh, bene 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 Però siccome io ti sei Sì, sì Ecco, ecco Io ho visto Tu hai postato Un Adesso non so Se puoi svelare questo mistero Ma ho visto che hai postato Una foto dove eri Su uno yacht Sì Puoi parlarcene Siete i primi a saperlo Se lo puoi dire Se no Se non vuoi dirlo Non dircelo No, no Lo diciamo Lo diciamo Svegliamo Tanto ormai ci siamo Quindi Perché ci sono state Le prime riprese Quindi E domani faremo Faremo le altre In piscina Con Dovremmo avere 71 ragazze Che Wow Come compazio Wow Allora Mi sento di dire Mi sento di dire Una cosa Diciamo Il primo step Di emozione È quando vedi Il tuo nome Legato a un progetto Il secondo step È quando lo vedi Nella classifica Io credo che però Il top Arrivi nel momento In cui tu devi girare Il video Perché oltre a girare Il video Non può andare No No, tu devi sapere Che io Sono più emozionato Adesso Sì Di più L'ansia Sta crescendo Molto di più Anche perché Magari Hai delle aspettative Più alte Dici Ma Diciamo Diciamo Di sì Perché Ma Io penso Anche per il video Perché è il mio primo Video ufficiale Quindi Perché ho fatto Sempre video lyric Diciamo Ebbè Quindi Diciamo Che è un ulteriore Traguardo Un'ulteriore Medaglietta Da appuntare Questa qua Quindi Eh sì Diciamo Che stiamo investendo Anche un po' Un po' Di soldini Vedo però Che stai investendo Vedo che stai investendo Anche tanto tempo Perché Vedo che tutte le serate Complete Al Cajara Chiaramente Di cui ci avevi parlato L'altra volta E poi vedo anche Altre Altre serate Tipo quella di venerdì Giusto? Sì Venerdì Stiamo Anzi Colgo l'occasione Per salutare L'agenzia Lucia Parque Academy Stars Scusami Che se faccio Un pochettino Di pubblicità Però siccome Stiamo facendo Questa serata Per solidarietà E non c'è Lucro Non c'è Non c'è Non c'è Stai prendo soldi Siamo un po' D'artisti Con degli amici Di Maria De Filippi Ci sarò io Fabio Pagano Altri cantanti E quindi Una bella iniziativa Per 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 le persone Uccite Sulla strada Allora Assolutamente Da promuovere Questa serata Che si terrà Vedo a Comiso Aragusa Giusto? Comiso 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 Ecco io non sono esperto Di accenti Comiso Bene 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 Tu sarai chiaramente Il protagonista Che detterà i tempi Detterà i ritmi Giusto? La musica sarà tua Quindi Ma io non mi sento mai Diciamo che i protagonisti Sono le ritme Sulla strada Ecco questo Certo Purtroppo Allora Un abbraccio Virtuale Chiaramente A tutti quelli Che partecipano A questo grande progetto A questa grande serata E tu invece Hai qualcosa Che bolle in pentola? Sì Bolle in pentola Appunto Il progetto Che uscirà Appena Appena Sarà montato il video Appena Sarà ultimato E voglio Volevo salutare La cantante Marcella Marcella Campo Marcella Saluto anche La Keep Records Che mi sta supportando Tobia Borrata Allora Dino Brown Facciamo Facciamo i complimenti Anche alla Keep Records Veramente Ti rubiamo giusto Un pezzettino Visto che l'hai nominata Tu La nominiamo anche noi Perché Merita Sta sfornando Anche con Dino Brown Chiaramente Tantissimi progetti Di Questi artisti Nostrani Che ci stanno facendo Ballare Devo dire Complimenti Complimenti La Keep Adesso È uscito È uscito Da due giorni Kenny Ray Che sta Spopolando Sta avendo Un grande Ho visto Sì Ho visto Hai nominato La tua cantante Giusto Marcella Sì Ah bene Allora Stai magari Stai magari domani Contattato con noi Guardaci domani Dopo le 16 Che chissà che magari Non la vedi in diretta Ma te la vedi Così in Skype Però non ti dico niente Non ti dico niente Non svegliamo Chi sarà l'ospite di domani Non lo svegliamo Io però non voglio Guarda Già ho svelato Ho svelato un po' 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 Proprio A quattro occhi Di sentirlo Con le nostre orecchie E poi ci svelerai Chi è questa voce maschile Dai lo teniamo Ci teniamo Un po' Di suspense E per quest'estate Come siete messi Quest'estate Le serate Ancora ce ne sono poche Quelle che tu vedi Sulla mia pagina Sì 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 Vediamo un po' Ancora stiamo valutando la situazione Bene bene Anche perché ormai i locali non hanno più soldi per pagare gli artisti Perché poi arriva un DJ di Verlocross E lo pagano magari con 50 60 mila euro Ah ecco tu dici Piuttosto ne prendono uno Fanno il botto e via Va bene Va bene Luca Allora noi Allora guarda Noi ti ringraziamo per essere stato ancora Per l'ennesima volta con noi Ti teniamo d'occhio Perché sappi che ti teniamo d'occhio Stiamo qui Ad aspettare il nuovo pezzo di uscita Tu scrivimi pure Mandami tutto quello che mi vuoi mandare Non c'è problema E noi ti faremo La giusta propaganda che meriti Perché sei veramente un amico Adesso ci salutiamo Ti lasciamo a tutto il tuo progetto A quello che praticamente stai preparando per domani Che saranno queste 71 ragazze a bordo piscina Che secondo me da tenere a bada Te ne daranno di filo da torcere Perché io Io comunque le saluto Lo staff perché Non saluto con i nomi perché sono tantissimi Quindi saluto anche il videomaker Il regista Salvo Terranova Va bene Marcello Avvocato In primis Che è la guarda Come diciamo qui in Sicilia Ducitta Brigitta Va bene Luca Grazie ancora Noi adesso ci riascoltiamo La tua Let Me Try In attesa di aspettare Il tuo nuovo progetto Grazie tante Grazie 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 Ti mandiamo un po' di sole Mandaci un po' di sole Saluta Mattia Un abbraccio Grazie mille Ciao Luca Ciao Ciao